Sì ma io pensavo ci fosse un dibattito, non volevo nemmeno intervenire ma mi sembra che la mozione fa una richiesta assolutamente nella norma, assolutamente condivisibile, approvabile quindi sicuramente c'è un supporto dal Consiglio che sottolinea l'esigenza di discutere però non ci siamo sottratti, poi ognuno può avere le sue valutazioni in questi anni a momenti di confronto in Commissione Consigliare piuttosto che in Consiglio su questi argomenti, ricordo almeno un po' di incontri e certamente ci sono anche dei mutamenti, dei cambiamenti in essere che rendono utile la possibilità di ritornare con un approfondimento, quindi io da parte mia non ho problemi a votare questa mozione, poi non so cosa ne pensano gli altri consiglieri ma mi sembra che faccia parte del nostro diritto dovere di consiglieri affrontare questi temi, quindi per me va bene.